Incendio nell'appartamento di Piazza Carmine a Taranto si indaga sulle cause che hanno provocato il rogo necessarie altre 48 ore per completare la perizia. Nella giornata mondiale della lettura d'altavoce l'istituto Martellotta di Taranto celebra due alunne di 10 e 11 anni scrittrici in erba che hanno pubblicato un romanzo. Era un degente, ora è diventato un volontario del sorriso negli ospedali italiani Mattia Villardita nei panni di Spider-Man oggi nei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica di Taranto. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori benvenuti all'edizione provinciale della telegiornale di Taranto. Si indaga sulle cause che hanno provocato l'incendio nell'appartamento di Piazza Carmine. I funzionali dei vigili del fuoco hanno chiesto ancora tempo, altre 48 ore per completare la perizia. Dopo oltre 24 ore hanno fatto rientro nelle loro abitazioni residenti nello stabile in Piazza Giovanni XXIII nel centro di Taranto dove si è verificato il pauroso incendio all'ultimo piano. Restano però sotto sequestro soltanto gli appartamenti degli ultimi due piani funzionari dei vigili del fuoco. Dopo aver accertato la sicurezza strutturale dell'edificio hanno chiesto altri due giorni di ludere la perizia tecnica. Tesa ad individuare le cause che hanno provocato l'incendio costato la vita all'83enne Rosalia Mistretta rimasta intrappolata nella sua casa al nono piano. L'esito della perizia sarà poi consegnato alla procura di Taranto che ha avviato un'indagine diretta dal sostituto procuratore Mariano Bucoliero. Stando a quanto sia preso la violenza del ruogo sarebbe stata provocata dall'imponente spinta di aria che si sarebbe creata subito dopo la rottura dei vetri degli infissi dell'appartamento. La massiccia presenza di moquette nella casa ha poi reso più complesse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Dopo un turno elettorale piuttosto complicato e turbolento l'ordine degli avvocati di Taranto ha un nuovo presidente. Si tratta di Gialleo Cigliola. Subito al lavoro dopo il tormentato turno elettorale Gialleo Cigliola è il nuovo presidente dell'ordine degli avvocati di Taranto. La sua elezione è avvenuta nel corso della prima seduta del consiglio dell'ordine. Assieme a Cigliola, capolista di nuovo impegno forense, sono stati nominati Francesco Derrico vicepresidente, Fabrizio Todaro segretario, Francesca Fischetti tesoriere, Mirella Casiello alla guida della scuola forense. Sicuramente è un'emozione molto forte che mi ha veramente colpito in quanto non pensavo onestamente che una volta seduto sulla poltrona del presidente avrei avuto questo tipo di trasporto emotivo. Pensavo che di poter, anche in virtù del fatto che non sono un avvocato giovanissimo, di poterlo affrontare diversamente. Invece devo dire che sono stato piacevolmente colpito da questa onda emotiva. Sono partiti intanto i ricorsi al Consiglio nazionale forense e alla magistratura ordinaria della lista le voci del foro capitanata dall'avvocato Vincenzo Di Maggio, risultata vincente dopo il voto elettronico ma poi privata della maggioranza per l'esclusione di sette consiglieri eletti decisa dalla Commissione elettorale. Il presidente Cigliola risponde così. I ricorsi sono legittimi sempre, l'iniziativa giudiziaria è legittima in sé. In un momento come questo bisogna invitare un po' tutti alla calma in modo tale che anche le attività istituzionali dell'ordine che è primaria, perché l'ordine è al di sopra di tutti gli avvocati del foro di Taranto, possa essere riportata a quella giusta tranquillità che è necessaria per poter operare. Francesco Battista è il nuovo presidente della Commissione Garanzia e Controllo del Consiglio Comunale di Taranto. Approvati anche una serie di regolamenti comunali. Allora cerchiamo di fare il punto sulla situazione dei lavori dell'assise comunale di Taranto. Sentiamo. Nuovo presidente per la Commissione Garanzia e Controllo del Consiglio Comunale di Taranto a seguito delle dimissioni delle consiglieri di Cuglia di Forza Italia, il nuovo presidente Francesco Battista della Lega, eletto con 18 voti a favore. Questi i suoi intendimenti per il nuovo incarico. Spero di cercare di fare meglio il mio lavoro. Ringrazio i consiglieri comunali di opposizione ma visto i numeri che sono usciti dall'urna anche quelli di maggioranza che hanno deciso. Il mio chiaramente intendimento è quello di controllare nel migliore dei modi possibili gli atti che l'amministrazione comunale porterà in seno al Consiglio Comunale. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale Patrizia Mignolo ha annunciato la propria adesione al gruppo consigliare CON. L'assise su sua proposta ha deliberato favorevolmente la proposta di inserimento del MUDIT, il Museo degli Illustri Tarantini e Casa di Cesare Giulio Viola, nell'elenco del patrimonio indisponibile del civico ente e il trasferimento della sua gestione alla Direzione Cultura Sport ed Eventi. È stato disposto anche l'ingresso gratuito delle scolaresche e dei ragazzi inseriti nelle strutture di protezione sociale. Il MUDIT, visto come il Museo degli Illustri Tarantini, ma anche Centro di Cultura per i giovani, infatti è prevista la gratuità per talune fasce. Approvati anche il regolamento comunale che disciplina l'accesso ai servizi sociali e quello relativo al gruppo comunale dei volontari della protezione civile. Cambio al vertice di Sanità Service di Taranto, che ha una nuova dirigente che si è presentata questa mattina alla stampa. Aspetterà lei ovviamente risolvere vecchi e nuovi problemi a partire dall'internalizzazione. Sentiamo. La direzione dell'ASRA di Taranto presenta la nuova amministratrice unica di Sanità Service Taranto, Maria Rosa Di Leo, 1100 operatori da gestire in un territorio provinciale ampio e che ha visto anche dei problemi non indifferenti negli ultimi anni. Lei arriva in un momento ulteriormente complicato perché c'è l'internalizzazione del 118 da attuare. Quali le sue prime priorità? Dobbiamo assolutamente pensare a tutti i vari aspetti del 118 perché è un servizio molto compresso. Quindi dopo aver sistemato il lato personale della selezione del personale, non che delle visite mediche o anche delle divise stesse, dobbiamo buttarci su tutto ciò che comporta la fornitura dell'ambulanza. Le ambulanze sono quasi pronte perché mancherebbe all'interno una serie di strumentazione. In termini di tempi secondo lei quanto ci vorrà? È difficile. A seguire incontreremo le organizzazioni sindacali, oggi già. finisce nell'ambito delle associazioni dove hanno lavorato finora per poi essere quindi internalizzati e quindi far parte della grande famiglia della ASL. Questo potrà significare un miglioramento anche contrattuale per questi lavoratori, una stabilità? Beh, alla base c'è proprio quello, di togliere il precariato. Sappiamo che si è già messa a lavorare, quindi buon lavoro. Sì, grazie. Invece è diventato un volontario del sorriso negli ospedali italiani, la storia di Mattia Villardita. Entrare in un reparto come questo non è mai facile, qual è il messaggio che Spider-Man porta a questi bambini? Di speranza, questa attività è fatta di gesti puri, di amore incondizionato e gentili, gesti che tanti di noi possiamo fare. Che cosa ha notato negli anni conoscendo questi bambini? Guardando i loro occhi. Per me è un insegnamento continuo perché per me loro sono simbolo di forza e coraggio. Io i supereroi li vado a trovare, non mi sento tale. E ho notato che in questi anni è un qualcosa che resta perché a distanza di tanti anni io sento ancora oggi tantissime famiglie. I bambini escono dall'ospedale e vogliono un costume di Spider-Man. Io mi auguro che tra 10-15 anni gli ospedali siano pieni di volontari perché è la parte che cura l'anima. È uno Spider-Man speciale, un supereroe normale, quello che oggi ha portato sorrisi e doni nel Santissima Annunziata di Taranto. Ha rallegrato i piccoli degenti durante le cure ma ha anche ascoltato le loro storie. Mattia Villardita nella vita fa rimpiegato terminalista al porto di Vado Ligure ma nel tempo libero svolge questa attività dal 2018. Nel 2021 è stato nominato per questo Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Papa Francesco lo ha voluto incontrare e gli ha donato un rosario che adesso porta sempre con sé. È stato invitato dall'Associazione Simba in collaborazione con la SING Don Bosco. Era un bambino di 7 anni che guardava fuori dalla sua finestra di ospedale. Sono stato un paziente fino all'età di 22 anni del San Paolo di Savona, del Gazzini di Genova e del San Matteo di Pavia e quando ho finito la mia carriera da paziente ho deciso di dedicare quasi tutto il mio tempo libero a questa attività di volontariato. Nella giornata mondiale della lettura d'alta voce l'Istituto Martellotta di Taranto ha celebrato due alunne scrittrici in erba che hanno già pubblicato un romanzo. Due giovani scrittrici di appena 11 e 10 anni che stupiscono con il loro precoce talento. L'Istituto Comprensivo Vincenzo Martellotta di Taranto, dove entrambe frequentano la scuola media, li ha celebrati in occasione della giornata mondiale della lettura d'alta voce. Si tratta di Sofia Limongeli della classe seconda D, autrice delle avventure degli ALS, e Lara Ducci della prima B al suo secondo romanzo con una vita da tubero. Estratti dei libri sono stati letti nella sala conferenza del plesso di Corso Annibale, dopo i saluti del dirigente scolastico Giovanni Tartaglia, di Silvia Rizzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'editore del gruppo culturale letterario Giancarlo Lisi, hanno parlato le docenti di Sofia e Lara, Carlotta Nenia e Rita Tanzariello, e le loro insegnanti alla primaria, Carla Di Lauro ed Elena Zerruso. Ha condotto la mattinata la docente Maria Pamela Giuffre. Sono particolarmente felice ma soprattutto orgoglioso, orgoglioso di presentare due scrittrici nella giornata mondiale della lettura d'alta voce. Qui alla Martellotta non solo stimoliamo alla lettura, ma lo facciamo tramite gli stessi studenti. Allora, io mentre scrivo è come se guardassi un film, quindi tutti i miei pensieri li trasformo in parole. Quindi io mi sento soprattutto libera. Io quando scrivo provo tanta felicità e soprattutto riesco a scrivere soltanto quando sono felice e quando soprattutto ho l'ispirazione dopo aver letto un libro che mi è piaciuto particolarmente. La lettura d'alta voce è quello che più nei ragazzi interessa perché permette loro di esprimersi. Sono veramente emozionata io per prima perché ho sempre promosso e favorito tutte le iniziative che hanno a che fare con i libri e la lettura. Il Comitato per la Qualità della Vita rilancia il consolidamento dell'Università Ionica. A distanza di quasi 40 anni dalla petizione popolare con 83.000 firme con cui si chiedeva l'istituzione a Taranto dell'Università e il Comitato per la Qualità della Vita ha organizzato un seminario del titolo La Città chiede l'Università analisi e prospettive. Tre principali obiettivi, il consolidamento del sistema universitario ionico nella prospettiva dell'Università Tarantina, a cominciare dal recupero del corso di laurea in maricultura d'intesa con il Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Bari. Nell'ex sala giunta della provincia di Taranto la conferenza stampa di presentazione del seminario che si terrà il 3 febbraio prossimo a Palazzo di Città nel Salone degli Specchi. A Taranto finalmente pian piano sta crescendo il sistema universitario ionico e noi abbiamo voluto presentare l'evento del 3 febbraio, perché quella è la data storica, che si terrà a Palazzo di Città sul tema appunto La Città chiede l'Università. Abbiamo voluto presentarla qui per evidenziare lo stato dell'arte dell'Università a Taranto, le prospettive dell'Università a Taranto, la possibilità che attraverso la fondazione Archita possa avviare il percorso per l'Università di Taranto, il recupero del Dipartimento Biomedico che è indispensabile per concretizzare il corso di laurea di Medicina. La novità del nuovo corso di laurea, qui c'è il professor Zizzo, di Scienze della Produzione e Risorse del Mare. In ciole della telegiornale di Taranto, ora invece le notizie da Brindisi e Lecce. Malviventi in azione a Brindisi, tentata spaccata ai danni di una gioielleria del centro cittadino, i ladri sono fuggiti a mani vuote. Incendio a Torre Lapillo, distrutta la facciata di un negozio di canapa, auto e in fiamme a Montesano Salentino. L'ospedale Perino di Brindisi non è più in grado di rispondere alle esigenze del territorio se ne è discusso in consiglio comunale, durante il quale è stata formalizzata la richiesta di costruire un nuovo nosocomio. Ben ritrovati ai nostri telespettatori. È accaduto nella notte una tentata spaccata ai danni di una gioielleria del centro cittadino di Brindisi. I ladri sono fuggiti a mani vuote. Tentativo di spaccata a Brindisi in pieno centro ai danni della gioielleria Naviglio Fiume in Corso Roma. I malvimenti nel corso della notte intorno all'1 e 15 di mercoledì 1 febbraio sono saliti sul marciapiede sfruttando un piccolo scivolo laterale per la presenza di un passo carrabile tentando di mandare in frantumi la vetrata con una Fiat Panda. L'operazione sarebbe stata ripetuta più volte, almeno 4 o 5, nel tentativo di entrare nel locale commerciale. La vetrata, danneggiata, ha retto però l'urto, rompendosi alla base ma non crollando e quindi non concedendo lo spazio per entrare nel negozio di preziosi. Nel giro di pochissimi minuti, grazie all'attivazione dell'allarme, è intervenuto sul posto un equipaggio della vigilanza privata della Cosmopol che ha portato alla fuga degli aspiranti ladri che hanno lasciato il luogo a mani vuote senza essere riusciti ad entrare nella gioielleria. Danni, oltre che alla vetrata, anche al muro colpito dalla vettura. Evidenti anche sul marciapiede i segni delle gomme lasciate dalla Panda nei vari tentativi di mandare in frantumi la vetrata che costeggia l'ingresso principale del locale. Ad indagare gli agenti della squadra mobile di Brindisi che tramite la visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona stanno cercando di identificare i responsabili dell'assalto. Secondo il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, il racket, inteso come sistema, non esiste. Da qui l'appello ad eventuali vittime, pronto ad accompagnarle in questura per denunciare. Non esiste il racket, quantomeno a noi non abbiamo notizia dell'esistenza di un racket. Si può trattare gli episodi sporadici che sicuramente ci sono perché le forze dell'ordine hanno fatto brillantemente il loro lavoro. Alla luce di mancate segnalazioni e di denunce non pervenute non esiste il racket, perlomeno non risulta agli esercenti di Brindisi e provincia. Intervenuto nell'approfondimento di Antena Sud News, il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi commenta così le risultanze investigative emerse dall'operazione condotta dalla squadra mobile di Brindisi che all'alba di lunedì ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare per i presunti componenti di un'associazione in odor di mafia. Tra gli affari del clan anche le estorsioni ai danni dei commercianti, singoli episodi, secondo Confesercenti, che comunque invita eventuali vittime a denunciare situazioni sospette. Come sistema di racket, per quanto ci risulta, non esiste. Ma in ogni caso colgo l'occasione per rivolgere appello agli commercianti associati e non associati che nel caso dovessero avere sensazioni, dovessero avere o subire un tentativo di estorsione, le associazioni sono pronte ad accompagnarli in questura. Personalmente accompagnerò in questura coloro i quali sono soggetti a delle vessazioni o a delle richieste di questo genere per sporgere la querela. Incendio a Torre Lapillo distrutta la facciata di un negozio di canapa auto in fiamme a Montesano-Salentino. Prima un negozio, poi un'auto. Notte di fuoco in Salento. Il primo episodio si è verificato intorno a mezzanotte e mezza a Torre Lapillo di Porto Cesario, dove in via Torre è stato interessato dalle fiamme il negozio e il canapaio specializzato nella vendita di prodotti a base di canapa. Ha distrutto un dendone e danneggiati due distributori di bevande. Le lingue di fuoco hanno anerito anche la facciata dell'attività commerciale intestata ad una donna di 44 anni. Il fuoco ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono giunti i vigilantes della veglia al Polo dei Vigili del Fuoco. Era il 2020 quando la stessa attività venne colpita da un rogo di vaste proporzioni. Si indaga sulle cause e al momento non esclusa la pista dolosa. Il secondo episodio è stato registrato a Montesano-Salentino. Intorno all'1 una lancia Y è andata a fuoco in via di sorgimento. Si tratta di un mezzo intestato ad una 50 settene del posto incensurata. La zona è stata raggiunta oltre che dai pompieri del distaccamento di Tricase e anche dai carabinieri della stazione di Specchia che hanno avviato le indagini e la ricerca di videocamere utili. Un zaino abbandonato in piazza Santo Ronzo a Lecce ed è subito allarme bomba. Sentiamo invece che cosa è stato rinvenuto all'interno. Allarme bomba nel cuore della città di Lecce in piazza Santo Ronzo per uno zaino sospetto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura di Lecce che hanno presidiato la zona in attesa dell'arrivo degli artificieri. La borsa sospetta era appoggiata nei pressi del distributore di bevande H24 in prossimità della banca BNL. Il luogo di ritrovamento è stato delimitato e inibito il passaggio con apposite transenne. Poco dopo sono intervenuti gli artificieri che con l'ausilio di un robot hanno ispezionato il contenuto della borsa. All'interno non c'era quasi nulla, solo una penna. In tarda mattinata l'allarme è poi rientrato. Il pedale per Rino di Brindisi progettato negli anni Sessanta non è più in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Se ne è discusso ieri sera a Brindisi durante i lavori del Consiglio Comunale durante il quale è stata formalizzata anche la richiesta per costruire un nuovo nosocomio. Tra i punti all'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Brindisi riunitosi martedì sera anche quello sull'ospedale presentato dal sindaco Riccardo Rossi. Punto approvato a unanimità nonostante l'argomento sia stato definito dal consigliere Ogiano di Fratelli d'Italia uno strumento di distrazione di massa. Bisogna riconoscere che l'ospedale per Rino che è nato progettualmente alla fine degli anni Sessanta realizzato e aperto all'inizio degli anni Duemila è oggi vecchio nella sua struttura insufficiente per accogliere il numero dei posti letto nei reparti necessari ad esempio al riordino ospedaliero per la nostra città e occorre quindi un dialogo con il Governo nazionale e regione per inserirlo nella programmazione. Vorrei sottolineare che praticamente Brindisi è l'unica provincia che non ha ancora previsto un nuovo ospedale. La maggioranza ha bocciato invece la mozione presentata dal consigliere del PRI Gabriele Antonino insieme ai consiglieri Romartire, Elefante, Vadacca, Donofrio per rendere applicabile anche nel comune di Brindisi il cosiddetto piano casa. Se approvata, commenta Antonino, la mozione avrebbe consentito di promuovere forme di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente. Passata all'unanimità la mozione presentata da Carmela Romartire sull'educazione stradale per bambini e ragazzi. devono essere educati alla guida sicura e quindi l'idea è nata anche confrontandomi con il comandante dei vigili urbani peraltro a costo zero, senza nessun impatto sul bilancio comunale per organizzare delle giornate proprio pratiche. Gli ostonesi possono tornare a festeggiare il loro santo patrono con il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di San Biagio. Il Tribunale di Brindisi infatti ha assegnato al comune il possesso di una strada finora considerata privata. Il 3 febbraio gli ostonesi potranno tornare a onorare il patrono San Biagio raggiungendo i luoghi sacri di devozione interdetti lo scorso anno per la chiusura della strada d'accesso al Santuario decisa dai privati che ne rivendicavano il possesso. Grazie al pronunciamento del Tribunale Civile di Brindisi il comune di Ostuni ha ottenuto il possesso della strada vicinale che dalla provinciale 18 conduce al Santuario. Si tratta di una sentenza storica dopo un lungo contenzioso che lo scorso anno arrivò al culmine con il divieto formalizzato dalla famiglia dell'Erba proprietaria dell'attigua masseria Pizzicucco di accedere al Santuario attraverso la strada considerata parte della tenuta privata impedendo il pellegrinaggio molto sentito dagli ostonesi. La commissione straordinaria che guida il comune dopo lo scioglimento del Consiglio per infiltrazioni mafiose all'indomani avviò un'azione legale per fare in modo che la tradizione non fosse nuovamente interrotta sopportata da una petizione avviata dall'ex sindaco Lorenzo Cirasino e sottoscritta da migliaia di ostonesi. Dopo la sentenza del Tribunale di Brindisi che restituisce la strada al pubblico i legali del comune introdurranno nei prossimi giorni anche il giudizio per l'accertamento della proprietà completa del santuario. Nel frattempo la masseria Pizzicucco è in vendita 1.150 metri quadri di abitazione 200 ettari di proprietà prezzo richiesto 4 milioni e mezzo di euro. Sindacati pronti a scendere in piazza per salvare il futuro dei dipendenti della Minermix di Galatina e di Fasano per i quali l'azienda ha avviato nei giorni scorsi la procedura di licenziamento collettivo. Stato di agitazione per i 59 dipendenti della Minermix, impresa di calce derivati che ha sedi a Galatina e Fasano ai quali l'azienda ha annunciato di aver avviato la procedura di licenziamento collettivo e richiesto gli ammortizzatori sociali per cessazione dell'attività. Una decisione necessaria secondo i vertici aziendali dovuta alla crisi dal principale committente della Minermix, ovvero l'ex Silva di Taranto ma che per i sindacati invece non trova riscontro. Abbiamo appreso comunque che sicuramente ci sono delle prospettive nuove nel 2023 come produzione di ilba perché sono stati stanziati circa 800 milioni di euro proprio a far fronte alla produzione di acciaio in Italia per cui è solo una difficoltà temporanea e oggi potremmo utilizzare un accordo ponte per poter arrivare ad una maggiore produttività da parte di ilba e di conseguenza anche di Minermix di Galatina. Il 6 avremmo un incontro in Regione e noi speriamo che a quella data l'impresa abbia fatto un minimo di screening interno per capire quali sono le prospettive. Noi ci auguriamo che siano occupazionali per tutti questi lavoratori. I sindacati annunciano anche manifestazioni di protesta. La delusione di questi lavoratori che è il più anziano ha 31 anni di attività in azienda e quindi è venuto meno da un giorno all'altro la fiducia nei confronti dell'azienda. Probabilmente anche fra qualche giorno o quanto prima verrà fatta qualche azione nei confronti dell'azienda. In provincia di Lecce c'è una rete di volontari che permette di evitare situazioni di disagio a chi non ha un letto su cui dormire. A fare il punto della situazione è la direttore della Caritas di Ocesana. Sul territorio, almeno di Ocesano, non ci sono persone che sono fuori casa e comunque anche quelli che hanno difficoltà e ce ne sono tanti che hanno difficoltà un'abitazione per starci. E grazie alla rete di volontari presenti su tutto il territorio provinciale che è in provincia di Lecce non si registra la presenza di Senzatetto. La Caritas di Ocesana in costante contatto con le parrocchie riesce ad intervenire per tempo prendendo in cura il disagiato e offrendo i servizi di cui necessita. Ogni comunità sia attenta e sia educata ad accogliere. Questo è il lavoro che stiamo facendo almeno come metodo non di delegare qualcuno ma di dire in prima persona cosa posso fare io. In questo momento, per esempio, pensando a un circense che è stato abbandonato in ospedale abbiamo trovato una comunità che lo ha accolto. C'è una famiglia che in questo momento sta della Libia che sta pernottando presso un B&B insieme col comune di Tricase abbiamo preso questo impegno. Loro vengono a mangiare a condividere il pranzo con noi verso la Mallor Caritas a Tricase sono cinque persone con altre persone del territorio. In questi anni, io penso, c'è stato un problema grosso. La comunità si è allontanata dalle problematiche dicendo c'è questo, c'è quest'altro che deve fare questo. È giusto che ci sia. Però nel suo tempo la comunità non può rimanere insensibile alle problematiche che quel territorio vive. Dal volontariato alla cultura ci spostiamo nel territorio, anzi, nell'Ecce città per parlare di una mostra inaugurata nel Museo Storico. Un'importante mostra, quella che viene ospitata, che offre anche uno spunto di riflessione oltre che artistica anche sociale a coloro che vorranno vederla visitare. In realtà, direi forse principalmente, questa è un'importante mostra che apre una finestra e accende una luce su una cultura di un popolo e su un patrimonio culturale ed artistico che rischia di andare distrutto a causa del ben noto conflitto che c'è in Ucraina. E' stata inaugurata presso il Mustri, Museo Storico della Città di Lecce, la mostra Anknao Ukraine Art curata da Bauer, dedicata al ricco patrimonio artistico ucraino con una selezione di opere del XX secolo provenienti dalla SAC. L'arte è un linguaggio universale e che accomuna tutti i popoli e che dobbiamo difenderla dai rischi di perderla. All'inaugurazione, introdotta dalla direttrice del Mustri, Claudia Branca, ha partecipato l'assessore alla cultura Fabiana Cicirillo e il senatore Roberto Martoi. La Sorben Art Collection è una delle più grandi collezioni private d'arte dell'Europa occidentale con oltre 6.000 pezzi, il cui principale punto di interesse è l'arte dell'Europa orientale, proveniente per lo più dalle ex repubbliche sovietiche. La direttrice del Mustri ha aperto le porte a una mostra che ha dei contenuti importanti. Lo Stato c'è non solo per aprire le porte alla bellezza di queste opere che sicuramente saranno come tante altre, come tantissime altre mostre importantissime, belle, ma hanno un valore intrinseco forte, forte da un punto di vista emotivo. Si iniziano a inaugurare di nuovo le mostre e un elemento importante per il Paese. Il LATG del Salento finisce qui. Grazie per essere stati con noi e arrivederci e buon proseguimento di serata. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.